Sono otto a Fano, le diffide inviate alle famiglie i cui figli non erano in regola con le vaccinazioni, ma frequentavano regolarmente gli asili della città. Una lettera inviata dal Comune ha dato tempo alle famiglie sino a venerdì per mettersi in regola con l'obbligo vaccinale, attraverso la presentazione del certificato di vaccinazione di Asur o mostrando l'appuntamento per i vaccini stabilito con data certa. Inoltre le otto famiglie erano state già informate dal Comune che in mancanza della documentazione richiesta sarebbe stato costretto a far rispettare il divieto d'accesso al servizio per non incorrere in una violazione di legge. E questo non è accaduto, in quanto infatti nelle scuole comunali tutti i soggetti diffidati non erano presenti. Il Comune dunque avrebbe potuto impedire l'accesso ai bambini non in regola con le vaccinazioni, le cui famiglie però hanno deciso di non mandarli. Gli uffici dei servizi educativi, dicono dal Comune, si stanno adoperando per garantire in riferimento ai servizi di propria competenza, ovvero il nidio e l'infanzia, il rispetto di quanto previsto dalla legge sull'obbligo vaccinale. Così sono state notificate le diffide agli otto bambini che pur risultando l'anagrafe vaccinale non in regola con gli obblighi previsti dalla legge, stavano frequentando i servizi. Nei prossimi giorni gli uffici continueranno ad effettuare delle verifiche per garantire la corretta applicazione di quanto previsto dalle leggi. Cercheranno inoltre di supportare come sempre i propri utenti, garantendo la massima collaborazione in termini di informazione e di attività di sportello. Nel caso Fanese, dunque, le famiglie che hanno deciso di non vaccinare i propri figli hanno anche deciso, viste le diffide, di rinunciare all'asilo.